Il nome è venuto più per le dimensioni del negozio perché era una dimensione molto piccola. La passione l'ho avuta da sempre per le scarpe sportive e questo negozio è stato aperto tre anni fa. Mi trovo qui in un centro a Venezia dove vedo che è abbastanza apprezzato anche dalla clientela straniera. Cambio un po' a seconda della stagione. Comunque le marche che trovate in questo negozio sono Tretorn, Folk, Asia e poi brand più sportivi come Adidas Original, Nike 6.0, Onizuka Tiger. È molto importante trovare nuove marche ogni anno anche perché poi ho anche degli altri marchi da inserire tipo Be Positive, Volta, Orfex e altri marchi più emergenti. Anche la clientela si offre più per una maggiore amicizia con il titolare o più una scelta del titolare sul prodotto rispetto a una cosa di massa. Grazie a tutti.